Chi è questo? Cristiano il bello lo faccio io Cristiano il bello lo faccio io Scusa cosa ho detto? Benvenuti alla conferenza stampa di Cristiano Ronaldo do Santo Savero di Spasito Suo Vesito Ricordiamo i gentili giornalisti che potete fare al massimo due domande perché il tempo è prezioso e infatti Ronaldo lo paghiamo 57 euro e 87 centesimi al minuto in esclusa Ronaldo sei molto felice di questa nuova esperienza qui in Italia alla Juventus? Sì! Perché hai lasciato il Real Madrid per arrivare qui alla Juventus? La Juventus è una buona squadra e Turin è una bella città e per questo sono qui Ok non ho capito niente però ti sorrido e ti dico benvenuto Ronaldo perché sono un giornalista italiano e quindi devo fare il lecchino Io non sono un giornalista e non ho una domanda da fare Però parlo lo stesso perché devo occupare questo spazio del video Ma ve lo immaginate Cristiano Ronaldo alla Juventus? È il giocatore più forte di tutti i tempi No no scusami Paolo non ti volevo offendere Lo sai che io ho gli occhi solo per te e tu invece ce l'hai solo per me Vabbè dai mi è rimasto Sturaro e con Sturaro e Ronaldo faremo una grandissima coppia Sì! 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 Sì!